Avete riconosciuto questi sportivi, ma certo, sono quattro tra i più celebri allenatori calcistici. Rocco, Suarez, Fabri, Vinicio. Già finito? Come forchetta ti difendi bene? E' un difensivista che che scatto, è finito prima di tutti. Ragazzi, non meravigliatevi, un buon difensore gioca sempre sull'anticipo. Anticipa, anticipa, se no ti tagliano sempre fuori. Quante volte devo dirti, se non anticipi, non la prendi mai. Vieni qua, ti faccio vedere io come si fa. Vieni qua adesso. Hai capito finalmente? Ma non sarà che il ragazzo ha paura dello scontro? Certo, non sei una farfalla. Non ha importanza ragazzi, io ho l'anima snella. L'anima snella. Facis ha le misure di tutti. Lo provano quattro celebri allenatori. L'alto Vinicio, il piccolo Fabri, lo snello Suarez, il robusto Rocco. Vinicio taglia 52 normale extra lungo. Fabri taglia 52 mezzo forte corto. Suarez taglia 48 snello extra lungo. Rocco taglia 58 forte lungo. Facis ha le misure di tutti. Non ci credi? Chiedi un Facis anche tu nei negozi che espongono questo marchio.